Ecco il primo infortunato ragazzi Vai forza vieni vieni Ragazzi questo è il primo Il secondo è Alessandro Con il diabete adesso lo vediamo Guarda che figata ragazzi L'unica pozzanca le sono asciugate tutte L'hanno trovata loro Allora vai mi dico corri corri E' il terzo Alessandro quello è il casco blu Vai vai mi dico No ragazzi eccezionale Bravissimo Ed ecco Ale Adesso vi dico come abbiamo regolato gli allarmi oggi Vai vai corri 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 Ancora Ancora vivo Vai essi fuori Ecco Ale Allora Ale c'è a desk Ralentate un attimo fammi vedere Facciamo vedere dove è il cellulare Qui c'è il cellulare Il cellulare dietro la schiena pronto per essere preso Speriamo non si impanga troppo Qui c'è il moschettone Il cellulare è un S7 che è resistente all'acqua Quindi l'altro giorno che aveva preso Un sacco di pozzanghere Oggi niente rispetto Si era pure bagnato ma la S7 resiste No pozzanghere Nei fiumi No no altra cosa Dello stesso colore Il colore della cacca lui vorrebbe dire Allora poi allora praticamente abbiamo messo L'allarme che di solito noi teniamo a 70 L'abbiamo messo a Non potete capire come ritornano Piedite fango Poi adesso perché c'è solo sta pozza Quando è tutto fango Ritornano proprio come Peppa Pig Dopo due ore di sport De mountain bike Adesso se ne vanno anche in giro Per il bosco L'allarme da 70 Noi l'abbiamo spostata a 95 In maniera tale per vedere Se lui da solo riesce ad auto monitorarsi Praticamente la borraccia d'acqua Abbiamo messo un intero Succo dell'Idle Di quelli là che vi ho fatto vedere La volta scorsa Molti vitaminici dell'Idle Che costano 30 centesimi di uno Sono buonissimi Mischiata un po' d'acqua Quindi non puro Ogni multivitaminico Sono all'incirca 20 carboidrati Bravissimo Attento Non fate male Bravo Bravo mitico Allora Quindi che succede Gli abbiamo detto Che quando suona l'allarme Oh dillo pure tu L'allarme Pure gli amici Se beve un po' di acqua Che è praticamente acqua zuccherata Vero Andrea? Sì Anche gli amici Perché Borteala È tutto preso dallo sport Capace che rimanda L'allarme suona Ogni 15 minuti Quindi abbiamo messo in maniera tale Che se lui Gli suona l'allarme 5 minuti dopo Non gli risuona Gli risuona 15 minuti dopo Quindi se in questi 15 minuti È risalito sopra 95 Non gli suona più Se invece è ancora Al di sotto dei 95 O 95 Gli risuona ancora E lui si rifermerà E darà di nuovo Un'altra sorsata Poi dopo Adesso in questo momento È a 130 Poi dopo All'incirca A metà A metà Di queste due ore e mezza Di biciclette No È troppo veloce Vale Madonna Alessà Oddio Alessà Rischi troppo Rischi troppo Non è È troppo montare Lei Vai Carri L'altro Troppo veloce Alessà È pericoloso È bellissimo No Questo pure Va tutto sbuccio Così Così andava bene Un po' controllato Troppo veloce Allora praticamente Abbiamo provato A mettere queste cose È vero che comunque Noi qui intorno Tempo Qualche minuto Riusciamo a rintracciarlo Anche se nel bosco Ci sono alcuni percorsi Però Però riusciamo a rintracciarlo Abbastanza Però potrebbero essere I punti dove non prende Internet nel bosco Allora in questo modo La cosa principale È che quando gli suona lui Lui piano piano Impara Ad autoregolarsi Anche in situazioni In cui È lasciato a se stesso Quindi Man mano Abbiamo tolto Adesso L'allarma a 70 Perché tanto Dice ci siamo noi Che guardiamo E calcolavamo noi E abbiamo messo Per la prima volta L'allarme a 95 Poi Siccome Alessandro È molto Ben regolato Diciamo Quindi non è che Sala all'improvviso Scena all'improvviso Senza un motivo reale La sua ultima clicata È 5.4 E poi le clicate precedenti Sono state 5.5 5.3 5.4 E un anno fa 5.8 Quindi Nell'ultimo anno Stai sempre sotto il 6% E quindi Sale Tu rischi Te vai male Vai alla più piano Stai affrontando Un po' troppo veloce Sta pozza Un po' troppo Spericolato Sei mitico Sei mitico Però un po' troppo Spericolato Quindi Alessandro Avendo una media Più o meno Del 105 Sappiamo che Scende Non scende All'improvviso Perché la basale È cucita proprio Su misura perfetta Però Adesso Quest'altro mitico Vedi È più moderato Degli altri Questo sicuramente La passa Senza farsi male Lui ha fatto bene Ha affrontato Ha vinto E non si è fatto male Eh Questo 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 è troppo Questo è troppo Rallentato 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 L'ha capita L'ha capita L'ha capita Ah Eh La prima volta casca La seconda capisci Giusto Giusto Così va bene Stanno aspettando Che arriva il maestro Questi diciamo Stanno a gironzola Prima ancora Di iniziare La vera e propria lezione No La settimana scorsa Andavamo tutto fango Sono tornati a casa Che erano Come da noi Diciamo San Lazzaro Ecco Ale Ecco Ale Ecco Ale Troppo veloce Un'inticchietta Più piano La devi fare Quanto basta Per non fatti male E passare Capito Quella è la velocità giusta Perché comunque È facile Perdere il controllo Vediamo se va più prudente Stavolta è più prudente Bici lanciata Però vedi A me non si è cascato per terra Bravo mitico Bravissimo Allora l'ultima cosa Ragazzi E niente Quindi Alessandro Automaticamente berrà Una cosa molto semplice E naturale Bere dalla borraccia E metà Sono più o meno Due terzi Ale 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 La traiettoria è importante Non è che devi scodinsolare Così come un'anguilla Vai piano E tenti di andare Nel percorso Anzi che ti sei fatto male Bevini Allora noi perlomeno Facciamo così Poi raccontateci voi Nei commenti Le vostre strategie Mitici Ciao ragazzi